Sono Anna Impedovo, ho 27 anni, ingegnera gestionale e sono co-founder di Isaac Antisismica, una startup deep tech. Per me Disruption è qualcosa che nasce dal coraggio di una persona o di più persone, di poche persone, di cambiare, modificare le regole che ci sono e portare qualcosa di innovazione sul mercato che possa cambiare meglio la vita di tante persone. Oggi è stato bellissimo ascoltare le donne straordinarie sul palco, le loro vite, i loro percorsi. Sicuramente mi porto a casa tutti i consigli, tutte le esperienze che hanno raccontato e ne faccio sicuramente tesoro.